Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1, tratto chiuso per lavori tra Pian del Voglio e Rioveggio, in entrambe le direzioni fino alle 12 di domani. Sul raccordo Bettolle-Perugia, chiuso lo svincolo di Cortona in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Perugia. Infine, per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, per la realizzazione del marciapiede in via Fortini, fino al 10 dicembre, in orario 9.16, chiuso il tratto tra Via delle Cinque Vie e Via Duca di Calabria. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!